Oroscopo del mese, aprile 2024. Ariete. Amore. Per i sentimenti, questo sarà un mese abbastanza stabile ed equilibrato. Chi desidera voltare pagina in amore avrà l'opportunità di farlo, mentre chi ha già un partner potrà notare alcuni miglioramenti nel rapporto sentimentale. Per i single, non si possono escludere nuove conoscenze interessanti. Lavoro. Le prossime settimane si preannunciano professionalmente molto incoraggianti e intriganti, con le stelle che offriranno nuove opportunità. Saranno presenti alcune sfide lavorative, ma disporrete delle energie necessarie per affrontarle, ottenendo ottimi risultati e belle soddisfazioni. Toro. Amore. Il nuovo mese sarà davvero interessante in ambito amoroso, sia per chi è già in una relazione sia per i single. Le emozioni con il partner saranno intensificate, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale, potenzialmente significativo per il futuro. Lavoro. Le prossime settimane porteranno risultati, gratificazioni e nuove possibilità. La determinazione verrà premiata. Gemelli. Amore. Questo sarà un periodo di alti e bassi sentimentali, con la prima settimana particolarmente problematica. Sarà importante prestare attenzione nelle relazioni. Lavoro. Il mese porterà novità e cambiamenti che potrebbero modificare la routine lavorativa. Le stelle favoriranno l'inizio di nuovi progetti o cambiamenti di rotta. Cancro. Amore. Il mese promette di essere particolarmente interessante per le relazioni e le emozioni. Sia le coppie che i single potrebbero vivere novità sentimentali, con i single che si lasciano andare alla passione. Lavoro. Saranno settimane incoraggianti sul fronte lavorativo, con obiettivi professionali raggiungibili grazie al supporto astrale. Leone. Amore. Dopo la prima settimana, il periodo diventerà favorevole per le relazioni, con possibili recuperi per chi ha recentemente affrontato problemi. Lavoro. Il lavoro sarà sostenuto dalle stelle, con nuove opportunità da cogliere, soprattutto nell'ultima settimana del mese. Vergine. Amore. Il mese metterà in primo piano sentimenti ed emozioni. Le relazioni esistenti potrebbero rafforzarsi, mentre i single avranno opportunità di incontri interessanti. Lavoro. Le settimane saranno impegnative ma produttive, portando a risultati soddisfacenti. Bilancia. Amore. Il mese sarà interessante soprattutto per i single, con possibili incontri appassionanti. Le relazioni esistenti resteranno stabili. Lavoro. Avrete molte energie da investire nel lavoro, con gratificazioni professionali in arrivo. Scorpione. Amore. Il periodo sarà caratterizzato da cambiamenti sentimentali, con decisioni importanti in vista per alcune relazioni. Lavoro. Per realizzare i vostri sogni dovrete impegnarvi a fondo, affrontando possibili cambiamenti e novità sul lavoro. Sagittario. Amore. La seconda metà del mese sarà ideale per vivere a pieno le emozioni in ogni relazione, con novità e legami sentimentali che si rafforzano verso fine mese. Lavoro. Avrete successo lavorativo e potrete gioire per ogni progresso professionale ottenuto grazie al vostro impegno. Capricorno. Amore. Il mese porterà diverse emozioni, con potenziali momenti di confusione iniziale che si trasformeranno in opportunità di rafforzamento delle relazioni. Lavoro. Le settimane saranno piene di opportunità lavorative da non lasciarsi sfuggire. Acquario. Amore. Il mese porterà cambiamenti e novità nelle relazioni, con trasformazioni generalmente positive. Lavoro. Affrontare scelte complicate vi aiuterà a risolvere problemi e avviare nuovi progetti. Pesci. Amore. Queste settimane potrebbero risvegliare il desiderio di novità sia nelle coppie che nei single, con la possibilità di incontri significativi per i single. Lavoro. La determinazione vi guiderà nel lavoro, permettendovi di ottenere buoni risultati, ma fate attenzione ai rapporti con i colleghi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. Grazie.